Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Il mondo dell'immobiliare perde un pezzo di storia. È morto all'età di 78 anni Giancarlo Bigelli, noto titolare dell'omonima agenzia immobiliare. Giancarlo è morto martedì mattina all'ospedale regionale di Torrette dove si trovava ricoverato a causa dell'aggravarsi di un male contro cui lottava da oltre un anno. Bigelli, oltre alla moglie Carla Morganti, lascia i figli Laura e Roberto e l'ipote Nicolás. Sono legittimi rimborsi per spese effettuate dai consiglieri regionali effettuate nell'esplicazione di attività politica in senso lato, spese alle quali invece non possono essere destinate le indennità mensili di carica e di funzione che hanno diversa e distinta finalità. È una delle motivazioni con cui i giudici della Corte di Appello di Ancona hanno motivato l'assoluzione bis lo scorso febbraio di un gruppo di ex consiglieri regionali delle Marche e di un addetto alla contabilità dei gruppi consigliari. Il volley marchigiano festeggia la vittoria ieri sera al Palabarton di Perugia della Cucine Lube Civitanova che battendo 3-2 gli Umbri si sono aggiudicati gara 5 della finale Scudetto e la vittoria dello Scudetto 2018-2019. Calcio si giocherà a Tolentino lo spareggio promozione di domenica 19 maggio tra Vigor Senigallia e Atletico Ascoli. La partita inizierà alle ore 16.30. Il tentato furto di ieri notte che ha preso di mira l'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale Dario Romano non sarebbe un atto mirato alla persona quanto un tentativo di entrare all'interno della residenza municipale. Il commento è dello stesso Dario Romano. Non credo che l'episodio sia legato alla mia persona, commenta il Presidente del Consiglio. Credo piuttosto ad un tentativo di commettere un furto all'interno della residenza municipale. Il ladro, dopo aver forzato il portone di ingresso sotto il loggiato che si affaccia su Piazza Roma, si è trovato davanti la seconda porta, quella che dà nell'ufficio del Presidente. Qui il ladro ha rotto un vetro, ma non è entrato ed è poi scappato. È morto all'età di 77 anni Giuliano Anselmo, ex dipendente comunale di Senigallia e responsabile dell'ufficio commercio del Comune. I funerali di Anselmo, che lascia la moglie Laura e i figli Stefano, Lorenzo e Silvia, oltre che i nipotini, saranno celebrati domani mattina alle 9.30 nella chiesa di Scapezzano. Un altro lutto se n'è andata un'altra ex dipendente della Sacellit Italcementi. È morta Silvana Gremolini, stroncata da un male incurabile provocato dall'amianto killer. L'ex Sacellit ha fatto una nuova vittima. Questo il commento del Presidente dell'Associazione Lotta all'amianto, Carlo Montanari. Litiga animatamente con la compagna e si becca anche una doppia multa. È successo ieri pomeriggio a Senigallia, in Viale Bonopera, dove i carabinieri hanno notato una coppia di scutere un po' troppo vigorosamente mentre si trovava in macchina. I militari hanno deciso di avvicinarsi per controllare che fosse tutto a posto. L'uomo è sceso dall'auto, ancora infervorato. Alla richiesta di esibire documenti, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo stava guidando senza la patente e, come se non bastasse, senza l'assicurazione sul veicolo. Novità a Senigallia dalla Comune che, considerato l'andamento sfavorevole della stagione climatica e la previsione del permanere delle basse temperature per i prossimi giorni, ha varato un'ordinanza che consente l'accezione degli impianti di riscaldamento da ieri, martedì 14 maggio, a lunedì 20 maggio, compreso per non più di tre ore giornaliere. Con questo è tutto da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto. Alessandro Ranieri